Ciao amici, volevo ringraziarvi con questo breve video per le tante visualizzazioni che sta ricevendo il mio canale YouTube e niente, continuate a seguirmi perché a breve ci saranno altre belle novità se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per non perderti i prossimi video a presto a presto